Ciao bimbi belli! Oggi la maestra mi racconterà la storia della gallina dalle uova di cioccolato. Una mattina la gallina Polly si accorse che le uova deposta sulla paglia erano di uno strano colore scuro. Perplessa si domandava il perché di quella strana colorazione. Ma poi, si ricordò che alcuni giorni prima aveva mangiato ai piedi di un albero delle bacche marroni che avevano il sapore della cioccolata. Polly raccontò tutto al gallo Benni che le esaminò e le vide. Queste uova erano fatte di buonissimo cioccolato e gli venne così un'idea geniale, quella di produrre uova di cioccolata. Così il gallo Benni e la gallina Polly da quel giorno decisero di decorare le uova con la carta regalo e un grande fiocco. E ancora oggi loro realizzano deliziose uova di cioccolata per far felici tutti i bambini del mondo. A voi piacciono le uova di cioccolato, vero? Mi raccomando, non siate ingurdi. Un bacione a tutti e non mangiate troppa cioccolata.